ciao ragazzi buonasera bentornati sul mio canale damis channel e siamo pronti questa sera ottimo bene e a fare la grand washington grand washington hotel in modalità eroica quindi tutto pronto sì io direi che possiamo anche incominciare la missione perché questo qua vala io non lo so intanto la missione è di là non è di lì perché quello è ok hai fatto boh possiamo andare a fare la missione dai via partiamo in eroica è grand washington hotel eroica quindi vuol dire non morire mai è dai droni dai ragazzi venite qua su guarda guarda il drone lì che sta distruggendo il mio alveare ok dai pronti ottimo bene quindi siamo in quattro tre tre barra quattro siamo ancora in tre dai però eh se mi dato una mano ok siamo in quattro via possiamo andare allora la missione praticamente dobbiamo entrare in un albergo dobbiamo entrare in un albergo procedi stanza per stanza non sappiamo come sono disposti e liberare questo albergo dalla black task quindi aspettiamo gli altri che arrivano bene ok andiamo qui è tutto ok perfetto prima ho provato a fare una una prova a registrare in mille in 1280 insomma in full hd e però in 60 fps mi laggava di brutto di brutto ma è spettacolo cattiveria cattiveria raga dai 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 bella 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 bel team dai eh forza entriamo usciamo usciamo giallo dai usciamo il giallo ottimo fatto bene allora ginocchiera potenza abilità ma dato potenza abilità e noi abbiamo rapidità abilità via let's go now siamo tutti sì bene ok andiamo ok allora qua adesso noi ci mettiamo i belli riparati pronti via vai ma perché io li devo sempre ma guarda che sfiga ho via 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 ok curati ok vai vi c'è un boss eh paherda dai paherda come si chiama questa paherda tra poco sono pronte le mine vai lanciamo mina ricerca e fanno male ste mine eh so so che fanno male dai beccati questa pronti via dov'è chi è dai tira fuori la calapa via 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 qui mi sa che è un cieco eh si eh si 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 arrivederci ok allora potenza abilità cecchino e qui abbiamo potenza abilità niente ok andiamo avanti andiamo a vedere lì per terra cosa c'è qui c'è roba da prendere allora ginocchiere via elimina tutto e prendiamo questo proiettile qui ok andiamo 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 rilevo comunicazioni cifrate nelle tue vicinanze probabilmente sanno che stai arrivando che spettacolo madonna mia ragazzi madonna imbarazzante bellissimo bellissimo armata potionchi qua andiamo qua non c'è niente ok e abbiamo praticamente sciolti bottino obiettivo e questo qua non ci interessa via adesso incomincia arrivare un po' il bello aspetta spietta che ce l'ho io allora busto corazzato provate colpo creed danni arma danni colpo alla testa questo potenza abilità durata e durata intrappolamento questo no niente non ci serve niente qua ok munizioni allora qua lanciamo ok vai dai vanno imbarazzante il male che facciamo ma cosa vanno a fare quello lì da solo ma io non lo so dai vine non lo so valla da solo a fare dai 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 che va dato spettacolo spettacolus spettacolus dato easy 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 allora queste due robe qua non ci interessano via ok via e fino adesso ci siamo eh fino adesso la partita è stata abbastanza semplice e ci siamo in quattro overpower ci credo ognuno adesso io non lo so ah qua adesso c'è questo oh sono cambiate le cose da dove da dove chi c'è ah da là lasciamo lasciamogli le mine vai ottimo ancora vai vine vai 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 bellissimo vine vine così così li lancio sopra no la non si può allora li lancio dentro lì ottimo fatto cecchino la colonia alla finestra sì forse dovrebbe riuscire a entrare vediamo sì bene allora guanto danni fucili precisione e questo qua via ok semplicissimo a sto giro è semplicissimo siamo in quattro raga quattro veramente overpower ok dai open open the door please falen falen via qua non c'è niente andiamo ormai faccio solo missioni eroiche vado io lo metto non si sa mai area o qualcuno almeno abbiamo abbiamo il come si chiama bene chi è che c'è c'è in giro qualcuno mi era sembrato di sentire qualcuno dai 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 forza forza l'alveare almeno abbiamo l'alveare che comunque ci aiuta allora a questo punto io lo riprendo e glielo butto io quasi quasi glielo butto qua guarda è così preferisco ottimo dai proseguiamo andiamo avanti spettacolo 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 vai dai 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 che ci siamo questo qua lo riprendo e glielo butto là così adesso dovrebbero uscire ancora vediamo guarda lì che macello è uno sciallo giocare così è troppo sciallante vai ok allora questo qua cos'è protocollo difensivo salute no ok vai andiamo sul tetto e ci dovrebbe essere sul tetto l'ultimo boss vai oi vai vai dai fatto via andiamo sì ma proprio in modalità assalto puro eh vai brazzante brazzante aspetta aspettato un attimo che forse c'è qualcosa da prendere qua eh già eh già allora bottino ricetta per eh già chimico no andiamo bella missione siamo arrivati alla fine se hanno una stazione di comando recupera i dati da quella uno stacolo per applicare il suo DS ma va allora io adesso cos'è che è qua alcuni vieni indossano dei pezzi di corazza ma cos'è roba nuova questa qua che è uscita va bene allora io ah no dobbiamo prima andare là ok ok dai stiamo qua vicini dai eh pronti let's go dai dai lo è il jammer qua dai dai attenzione che arrivano ottimo attenzione non andiamo a terra eh proprio adesso l'olore è pazzesco un giallo un giallo attenzione 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 io lo metto qua eh sì perché questo qua mi aiuta eh sì questo qua almeno mi copre le spalle boss jammer questo fa male ok ok jammer è andato dai bombette boom dato dead fatto 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 non moriamo adesso oh oh dai rianimiamo veloce veloce copriti copriti veloce già è la testa nooo chi è che mi ha tirato giù agente neutralizzato mi ha tirato giù mi ha tirato giù c'è nessuno qua help me nooo serve aiuto ma ucciso manca solo che moriamo proprio adesso ok cicciono è andato vai rianimateci ok allora componente questo potenza abilità maschera salute lanciatore chimico e fucile ok poi vediamo la cosa c'è fondina danni critici danni critici bottino e guanti danni possibili precisione ok questo qua lo possiamo eliminare e andiamo via let's go come on dai dai che avete preso tutto su ok via andiamo fotogrammi saltati a caso del lag nel codice 61 fotogrammi per se 21 si ci sta dovrebbe andar bene la registrazione la sto facendo in 1000 in full hd 1920 per 1280 si full hd ok allora buttiamo fine vai insomma ho preso il pieno eh bisogna stare attenti comunque eh e questi qua fan male ok ok si qualcuno ce l'ho vai uuuuh ancora porca miseria oh vai via io devo stare coperto ma chi è che mi ha ammazzato si ma se si può finire così la missione io non lo so cioè non lo so vedete voi è andata bene fino adesso se si può morire così dai thank you thank you man thank you thank you ok guys quello si sta curando eh vai ah due ciccioni eh stanno arrivando via torretta arrivederci via andiamo 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 no ah no un agente a terra ok vieni vieni ok è andato ti rianimo un altro ok vai vai no dove è andata vai qui dai è fatta è fatta è fatta ottimo gg allora vediamo un po' cosa ho droppato questo lo diamo a rghetto quello lo diamo a rtopo ok prendiamo queste parti elettroniche thank you thank you man ok thank you bye ok ok bella missione eroica è andata bene l'unica cosa al finale che non mi è piaciuto tanto sono morto due volte come come un babbo ma d'altronde dopo l'ultima patch che hanno fatto hanno potenziato le granate la granata quando ti prende se ti prendono due granate vai a terra secco comunque dai bella partita vi saluto e alla prossima ciao a tutti buonanotte grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti